E questo video supererà i 60.000 mi piace e Giampi trova una leggendaria, lo giuro, scioppo 300 euro Salve a tutti ragazzi e bentornati dai my show shows E come starete notando non sono a casa mia Questo perché ragazzi questa è la seconda parte del video in cui devo spendere 250 euro su questo gioco E per colpa di Giampi ormai vedete ragazzi sono finito sotto un ponte Non ho più una casa per colpa di Giampiero Però ragazzi siamo stati bravi e l'ultimo video siamo riusciti a superare i 70.000 mi piace quasi E quindi ragazzi ci riprendiamo la nostra rivincita e sarà Giampi a scioppare 300 euro 300 euro e lo farà sul suo canale, vero Giampiero? Sì ma in questo momento dovresti guardare la mia faccia che non è per niente felice anzi tutt'altro guarda Non mi va Ragazzi grazie grazie Quindi ragazzi oggi io continuo a scioppare la restante parte dei 250 euro che dovevo Però non mi fa sta cosa che tu hai scioppato 250 euro e io 350 Dobbiamo pareggiori i conti No no 300 300 non ti allarga dai dopo lo facciamo Dobbiamo pareggiori i conti Comunque ragazzi passate sul video di Giampi perché oggi anche lui uscirà i soldi Ha sganciato il dinero sentite quanto è felice No guarda una pacqua Lo sentite tranquillo ragazzi perché ancora non l'abbiamo fatto stiamo registrando prima il mio Però ragazzi vedete che ci so di nuovo 2000 gemme e io sono pronto a aprirmi un po' di case No mi mancano quelli insomma per i trofei Purtroppo ragazzi tra Natale così ho giocato pochissimo perché stavo in posti che non prendeva internet Mannaggia E mi mancano questi tre leggendari Purtroppo ragazzi Giampiero ce n'ha una Questa ragazzi è una cosa gravissima Questa ragazzi è una cosa gravissima Io con Max Shosh è il leggendario senza i leggendari Comunque quanto farebbe ridere che se io trovassi un altro leggendario e tu no Mamma mia porco giuda Ah ragazzi Allora no qua me voglio rovinare Se questo video supererà i 60.000 mi piace e Giampi trova una leggendaria lo giuro shoppo 300 euro Ma che cazzo dico L'ho detto l'ho detto Però Però se sarò io a trovare una leggendaria No eh questo non vale allora visto Giampi shopperà altri 200 euro Ma vaffanculo Oh si Eeeh così raga è così Oh è come i tempi Clash Royale Allora aspetta In Clash Royale io ho fatto il conto delle mie spese Avevo speso 1600 euro nell'arco di un anno Già ho fatto i 600 in due settimane Megacassi come se non ci fosse un domani Vai vai dobbiamo andare molto veloci perché qui abbiamo un sacco di giammine da buttare fuori Primo Ecco già niente Oh monete vai 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 Mortis Oh 20 mortis Oh jumpy Dai dai vai avanti dai Eh io vado avanti però ho 20 è tanto eh 20 è la prima botta si è tanto 21 franc è buono Sono già 81 No è onesto No non viene non viene 22 Eh guarda che potrebbe essere 3 No no 34 tara Forse c'è C'è? Forse c'è Vai No già mi hai trollato una volta 3 2 1 No affa Oh 3 bonus rimasti Già più è E beh i bonus non penso di no Ah no e i biglietti sono in biglietti Infatti sono biglietti monete gemma Eh si Ok esatto Vabbè però ragazzi me lo prendo Cioè è stato un bel pacchetto Guarda è una bella ricca questa casa Cioè tra l'altro 2 2 mitici Metticelo in leva Cioè tu ce l'hai i mitici Io manco uno cazzo Ecco hai visto ce l'ho tutti io Oh io ho scioppato una volta E ho fatto un pacco penning veramente ottimo Quindi sta buono Eccellente direi Eccellente Tara 12 Tar 12 Boh poca roba Non c'è nulla ragazzi Penny 20 Molto buona Penny tra l'altro Oh yeah Frank ragazzi proprio Sono mai sei un master skill con Frank 31 di Piper Justice 62 Vai di bonus ok E poi ragazzi stupidamente Uno dovrebbe scioppare Quando Cioè più avanti In modo tale che potenzio Pure quelli che Che trovo Vabbè Ho detto una frase Ragazzi Mi sono capito solo io Vabbè Esatto Bombardino 3 Ma raga Tara non mi piace per niente Ragazzi mi suggerite E quella che lancia le carte Eh lancia le carte E poi il buco nero Eh molti la usano È fortina È fortina Però io non lo so usare Ragazzi se qualcuno tra voi Cioè Che mi può spiegare una strategia ottima Per utilizzare Tara Fatemelo sapere Cazzo hai trovato 75 di Shelly Sceglie pure forte Eh ma Shelly Acqua è l'ulti che mi trigger un sacco Eh ma Shelly è lo budget Allora Stecca Mamma mia ragazzi Che schifo di cazzo 11 Shelly Oh altri Shelly Tara 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 Il primo Il primo Lo prende Il primo 24 Niente Ragazzi Portarlo su Porta su sta gente Ragazzi Tu spendi miardi Guarda Guarda Conferta speciale Le due mega casse al prezzo Sugosa Sugosa proprio È proprio al sugo 320 Ma che è sta roba Io voglio la leggendaria Bombardini È tantissimo Ho capito Giampiero 20 Cioè ma Penny Oh regà Piper 780 carte Ma a che livello la porto A livello 1000 Mortis 46 No non c'è Oddio c'è fra C'è 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 Sì che c'è No 46, 48, 20 Dai Ma non mi agita così Dai dai Vaffan cucco Giampiero Sa godere ragazzi Mi sento C'è c'è Così Così lui Non Mamma mia ragazzi Se me esce la leggendaria Mamma mia Se me esce Qua c'è sta la leggendaria Qua c'è la leggendaria Giampiero L'ha detto Da notare che prima Ti erano uscite 300 monete E qui 190 Cioè Ma ragazzi Io so sfigato So sfigatello Nasa a formo d'oro Poi per 33 Scelli 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 Mannaggia una miseria Ragazzi Scelli Però visto quante dare Quanti mortis Mi stanno a sci Perché forse non le abbiamo usate E quindi ti invoglio Ad utilizzare Magari Voglio dire una cagata Ho 60 Un'altra Ma qua che cazzo E le super off Oh tre Poi ti da sempre Monete grosse E bombardino 8 8 bombardino Mamma mia ragazzi Poi dite Perché stai sotto i ponti Non lo so Tra clash royale Qua E fifa Mamma mia ragazzi Giampiero Ce sei? Ho perso la connessione Sghere Ragazzi sono tornato E tornato internet Più che altro Ma io dico I tecnici Non ce la fanno A mettersi le mani in tasca Giampi Ci abbiamo ancora 1500 gemme Facciamo uscire Questa cazzo Di leggendaria Per favore Andiamo a cannone Vai c'è il cannone Jesse Nita Mortis Ma mortis Mo lo faccio diventa Super saiyan 5 Ecco questa E questa Allora aspetta Quando io ho trovato La leggendaria Mi ha fatto il caricamento Ti giuro Sarà un caso Sarà un caso Sì che magari La connessione Fa far cagare Però vedi Oddio Monete 196 Pegni 12 Vai 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 Niente ragazzi Frank 14 E' il primo 25 E non c'è Non c'è un cavolo Ragazzi Tara 57 57 di Tara Cioè hai detto Che non ti piace Le stai trovando tutte Ma fatti regata Oh un momento Tara Basta Ha deciso Eh guarda Guarda La probabilità Di trovare Legendari 0,13 Tu pensa quanto sai C'è il bucio De culo Ma che tu sia Maledetto Guarda Oh ragà Devo trovare Leggendare Che se no Pago io Forza Clash Royale 230 Non è Clash Royale Shelley Colt Ma sempre gli stessi Oddio 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 Ma non è Non è Eh ma non è Sono usciti tantissimi Oh senti Raga Manco quando trovi Oh 349 Oh è adesso È adesso Me lo sento Il primo 12 20 Dammela di più Fai per 22 No Tara 22 Oddio Pure un bonus solo Vado ragazzi Sto a rushà Sto a rushà Vai rusha Rugga Steca 25 Berry il 32 Niente Scegli 47 Mortis 1000 Mille mortis Raga Mortis è tornato in vita Raga Per tutte le volte Che l'ho trovato No qua bisogna Fa questo Popolo della terra Donatemi la vostra energia Io sono Mike Shosh Il leggendario Come facevo per trovare Il leggendario A flash royale Non lo so Credevi nel cuore Delle carte Ma qui non ci sono carte Qua devo credere Nel cuore Delle carte No ragazzi Ci devo credere Nel cuore delle casse Dai 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 Ci credo 219 8 8 Oddio C'è lì 15 Bombardino 21 Mamma mia E mortis Raga Mortis ormai Amico mio Io spero che non la trovi Poi andiamo a fare il mio video La trovo io Ed è finita lì No raga Se la trovi lì Parco 2 M'ammazzo Chiudo il canale Tara Tara Oddio Oddio No fra Ah C'erano i bonus C'erano Mamma mia Hai 10 10.000 monete Pensa quanto fai schifo 304 Si raga C'è talmente tanti soldi Posso fare una guerra Ma non me esce Non me esce Colt 32 Perli 44 Mortis Mortis 5 Raga c'ho 5 C'ho 500 carte di mortis Mortis tua va Ma li mortis tua proprio 800 gemme Cioè raga posso ancora Per il 1 e 10 No Stavo lasciate Quanto è che stava Registare una vita Un sacco Fra Un sacchissimo 296 21 gesti Prima botta no fra Non ci credo Aspetta Full 24 Guarda io spero che Trovi tutto Tranne che una leggendaria Ma trovo tutto C'ho già tutto No niente Ma che fa Grazie Grazie Oh sei in porta a tasso Mannaggia Te 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 Vi tocca un po' Mannaggia a tre Colt 9 Raga colt 9 Non so che fa Io non potevo spacchettare Adesso voglio andare a spacchettare Per trovare la leggendaria e farti shoppare Ma vai a cagare Guarda, regà, guarda Guarda, guarda Sì, così, compa, la trovi e ce la schifiamo, piano Vai, vai, vai Mo scrivo la chat del gruppo Come si scrive, leggendaria Annaggia Giampiero, che porca zozza Sta caricando un sacco, Fra, oddio Questa è la leggendaria, gliel'ho chiesta 311 Ma lui carica per i soldi, mi carica per i soldi 10, 16 24 gesti e il primo 50 Ender's Ghere Ender's Ghere, bro Ti ha tirato una bella stecca Ha tirato una stecca para per tutti Voglio vedere a quanto lo porto, Mortis A livello 7 l'ho portato Livello 7, cioè da livello 0 a livello 7 Dai, Mike, l'ultimo 5 casse 100 del santare monete Tara 12 Unite a 27 Penny 38 Oh, è il primo Oddio No, tranquillo, tranquillo Grazie, grazie Sono le ultime 3 casse Dammi il primo È il primo È il primo È il primo È il primo col secondo Vieni, fammo, tre 256 Bull 11 Uh, bombardino menti Jesse Uh 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 Satanico No, niente Uh Uh 77 Fammi, ragazzi Fammi, manco male Dai, bro stars Mi stai piacendo, cazzo Oh, bro stars, ragazzi Cioè Cioè, ma che abbiamo scambiato i ruoli Lui è diventato il leggendario Io l'ho sfigato Oh, sti giuro che stella trovo Cazzo Guarda, guarda Non c'è niente Regà, non c'è sta niente Vabbè, oh, a 60.000 mi piace Se no, niente Mi sa pure d'alta la telecamera Guarda C'è lì 39 Tara 43 Tu sorella L'ultima cassa L'ultima dovrebbe essere È l'ultima No, manco, manco ce la faccio Manco ce la faccio Aprirla Beh, ragazzi Meno male che già sto qui E peggiate così Non può andare Però, ragazzi Jumpy la deve trovare Io non l'ho trovata Ma vediamo se Sul video suo Lui la troverà Aspetto 300 euro No Vai a spendere 300 euro Ragazzi Andiamo a vedere Jumpy Che spende Tranquillo Vedete sul mio canale Che adesso qui Troviamo la leggendaria Comunque Io vi do appuntamente I prossimi video Sperando di tornare A essere il leggendario Oh, ciao a tutti Sì, da pomeriggio Oggi pomeriggio Ci rivediamo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Ma tutti quanti amano Mike Scioscia Tutti quanti amano Mike Scioscia